E' diventato il paradiso di Reuters e senza fissa dimora l'albergo abbandonato di San Paolo. Un colosso di quasi dieci piani, tra Via Tito e Via Costantino, che avrebbe dovuto ospitare 180 stanze. L'hotel era inserito in una convenzione stipulata nel 2004 tra il Comune di Roma e il costruttore, la società Acquamarcia del gruppo Caltagirone. Una holding immobiliare è andata però nel frattempo in liquidazione, lasciando in dota l'ottavo municipio e i suoi residenti un monumento alla peggiore cementificazione speculativa, specialità di cui Roma è davvero capitale. Dopo il crollo di alcune recinzioni esterne negli ultimi mesi, il bidet, come è stato soprannominato ironicamente il gigante incompiuto, è meta di pellegrinaggio da parte di sbandati e ladri che hanno portato via infissi sanitari e cavi di rame. Per questo il presidente del municipio Catarci torna a chiedere al Campidoglio e alla Corte dei Conti un intervento risolutivo. Il municipio ha sollevato complessivamente la questione di come è stato realizzato l'accordo di programma di Piazza dei Navigatori, denunciando in tutte le sedi politiche, ma rivolgendosi anche alla Procura e alla Corte dei Conti, sottolineando appunto il fatto in tutte queste sedi che l'interesse privato è stato in parte perseguito, appunto con due palazzi su tre costruiti a Piazza dei Navigatori, e che l'interesse pubblico viceversa è stato del tutto ignorato. Nessuna delle opere pubbliche previste, tra cui due sottopassi carrabili sulla Cristoforo Colombo, ma anche un asilo, un bocciofilo, uno spazio verde, alcuni oltre mille posti autopubblici, ecco nessuna di queste, se in eccezione fatta per qualche parcheggio, per di più di discutibile uso pubblico, è stato realizzato nel comparto di Piazza dei Navigatori. Nel comparto separato, ma annesso alla stessa convenzione di Via Costantino, appunto quell'albergo è stato sempre un cantiere, ha lavorato ad alterne fasi e da parecchio tempo si nota un abbandono totale. Malgrado i tanti solleciti, la proprietà, che ha problemi di natura gestionale, essendo ormai nelle mani di un curatore fallimentare, non dà seguito alle richieste fatte dal municipio, ma anche dai vigili urbani, cioè a quello di mettere in sicurezza il cantiere. Io penso che debba essere fatta un'iniziativa politica seria, convenzione alla mano, con la forza dell'Avvocatura Comunale a far rispettare i diritti di Roma Capitale e della collettività tutta, per annettere quel manufatto destinato, altrimenti a giacere lì per tanti anni ancora, al patrimonio pubblico, a Roma Capitale appunto, e magari trasformarlo non in stanze d'albergo, ma in moduli abitativi per l'emergenza socioabitativa di questa città, che sappiamo essere di proporzioni enorme.